Il B95 è il primo carattolo per l'automobili Pininfarina E' anche la prima barchetta hyper-elettrica del mondo Pure design, elegance e coherence Il Signature front-light è molto aggressivo e distinctivo Il caro è formato da un vento e il risultato è fantastico Il corpo è molto semplice e scoperto L'innovazione è lo che facciamo L'interior è disegnato per essere molto moderno e molto elegante Immaginatevi a guidare il B95 sull'automobili L'automobili è sorprendente da elegance E puoi vedere tutto in fronte di te E hai questa sensazione di guidare un carattolo dell'Alemane dai 60i con i fattori futuristi come il carattolo di Formula 1 Delivery vuole provocare un'emotione connessione con la Mille Miglia La bronzo superga ha un'amazinga gold flake Visibile solo under the sun The yellow is matching this reflection and makes the car come alive In Automobili Pininfarina we believe that the devil is in the detail She represents the beginning of something bigger She must stand aside of the most famous icon from the past I love you I love you